Abbiamo quattro piscine, di cui una appena creata, questa alle mie spalle, un nuovissimo spray park con river, getti di massaggio, cascate, non è ancora al pieno della funzione come la vedete, ma arricchisce il parco composto da altre tre piscine, di cui una per bambini, una da 50 mesi e un'altra da 25, tutte alimentate da sorgenti solfure naturali che sorgono in questo luogo, sono oltre 10 milioni di litri di acqua puri ogni giorno. A quanti metri arriva questa fontana? Questa fontana è un gioco d'acqua, può arrivare a 7-8 metri, è un simpatico gioco però rilassante per giocare e divertirsi, allo stesso tempo per passeggiare un anello e un river per fare un massaggio alle nostre gambe, che specie in questo periodo con il gran caldo è certamente un toccasana e qualcosa da provare. Siamo aperti il martedì, il giovedì e il sabato anche dalle 21 alle 24 tutti i giorni fino a fine agosto, mentre le piscine rimarranno aperte tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 18.30 fino al 17 di settembre.